Best for Soil. Compost. Vantaggi e svantaggi. Ciao, mi chiamo Alfred Grand. Questo video di Best for Soil mostra i vantaggi nell'uso del compost, ma anche i problemi che si devono considerare quando si produce o si applica il compost nei campi o nella serra. Alla fine del video si trovano ulteriori informazioni su questi argomenti. Il consiglio è di guardare anche gli altri video di Best for Soil su compost e altri argomenti relativi alla salute del suolo. Il compost è un prodotto che deriva dalla decomposizione microbica della sostanza organica in condizioni aerobiche. A seconda del metodo di compostaggio, delle dimensioni, dell'intensità dell'operazione e delle matrici di partenza, è possibile produrre una vasta gamma di compost con qualità diverse. Sebbene il compost abbia una vasta gamma di caratteristiche positive, a seconda delle matrici di partenza, delle condizioni di produzione e di stoccaggio, della gestione e delle restrizioni legali, devono essere considerati i vantaggi e gli svantaggi dell'uso e della produzione del compost. Uno dei maggiori vantaggi del compost è la grande frazione di sostanza organica che contiene. Contiene una vasta gamma di microbi, aumenta la capacità di trattenere l'acqua nel suolo, immagazzina carbonio e fornisce sostanze umiche. Attraverso un'ulteriore decomposizione microbica, nutre la comunità microbica e rende i nutrienti lentamente disponibili per le piante. La sostanza organica aumenta anche la stabilità degli aggreganti del suolo e quindi aumenta le infiltrazioni d'acqua. Il compost trasporta un'ampia gamma di diversità microbica. Questi funghi, batteri e protozoi hanno diverse funzioni nel suolo. Agiscono come un ponte tra le radici delle piante e il terreno minerale, mobilitano i nutrienti e formano aggregati del suolo. Sono anche un'importante componente attiva in una delle caratteristiche più importanti del compost, la soppressione delle malattie trasmesse dal suolo. Le malattie trasmesse dal suolo rappresentano una grave minaccia per gli agricoltori e i coltivatori. Il compost può svolgere un ruolo significativo nella soppressione di queste malattie. Le proprietà biologiche, nonché chimiche, fisiche di un compost ne sono responsabili. Questi tre fattori sono interconnessi e il compost ha effetti inibitori diretti o indiretti sulle malattie trasmesse dal suolo. Gli effetti diretti sono la competizione microbica di nutrienti, sostanze umiche, sostanze volatili tossiche o parassitismo. Gli effetti indiretti dei compost soppressivi sono una crescita sana delle piante, una riduzione dello stress delle piante, una resistenza indotta per le piante e una migliore struttura del suolo. In generale, il compost non è un agente fitosanitario, ma può essere di grande aiuto per ridurre la pressione delle malattie trasmesse dal suolo. Un altro effetto positivo dell'aggiunta di compost è la disponibilità di nutrienti. A seconda della temperatura del suolo e del contenuto di umidità, il rilascio di nutrienti attraverso un'ulteriore decomposizione della sostanza organica, ma anche la mobilizzazione di nutrienti fissi dai composti minerali nel suolo, può dare un contributo significativo alla nutrizione delle piante. Tutti questi effetti positivi derivanti dall'applicazione e dall'uso del compost si sommano ad una maggiore capacità del suolo di far fronte a diverse problematiche. Gli impatti di eventi meteorologici gravi, la coltivazione del suolo e l'applicazione di pesticidi sono infatti meno negativi per il suolo e successivamente per le piante, quando venga utilizzato il compost. Tutti questi effetti positivi del compost comportano anche alcune sfide. La numero uno è la disponibilità di compost in una certa area, sia come quantità ma anche come qualità. Pertanto è fondamentale verificare le caratteristiche positive del compost scelto attraverso un controllo di qualità interno o esterno. Le analisi essenziali necessarie per un compost riguardano le caratteristiche fisiche come pH e conducibilità elettrica o il livello di salinità. Sono caratteristiche chimiche necessarie per valutare il contenuto dei nutrienti e anche dei metalli pesanti, soprattutto se non è chiaro quali matrici sono state utilizzate per il compost. Le analisi microbiologiche più importanti sono quelli inerenti ai patogeni. I test per la diversità microbica e o per i gruppi microbici funzionali stanno ottenendo maggiore interesse ora, soprattutto se si considera la produzione di tè di compost. Anche se non tutta la microplastica può essere trovata ad occhio nudo, controllare un cumulo di compost dopo un evento di pioggia può dare una chiara impressione della quantità di vetro, plastica, metallo o altri contaminanti presenti nel compost. Un altro svantaggio del compost è che è ingombrante, pesante e quindi la movimentazione, la produzione, il trasporto e l'applicazione sul campo richiedono attrezzature pesanti. L'uso del compost offre una vasta gamma di benefici per la salute del suolo e per molte funzioni del suolo, ma, come sempre, occorre molta attenzione e una pianificazione anticipata per ottenere tutti i benefici e ridurre gli svantaggi. Se volete ottenere maggiori informazioni sul compost, non esitate a visitare il sito web Best for Soil, dove troverete risorse aggiuntive. Grazie. 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 Grazie.